Yeah! Stiamo andando all'Universo Studios, c'è una borda di gente, speriamo sia bellino! Siamo riusciti ad entrare nell'Universal Studios del Giappone con qualche difficoltà e siamo anche riusciti a prenotare Harry Potter, subito, alle 10.20 ci sa, videoni pazzeschi, siamo felicissimi! Siamo riusciti ad entrare nell'Universal Studios del Giappone! Siamo riusciti ad entrare nel 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 Giappone! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!